Ciao a tutti da Alza Comandoli, mi trovo qui nel campo del Santa Lucia a Fontenuova con Flaviano Di Gregorio, maestro di Muay Thai e maestro del team Centaurus Fight Company. Ecco, abbiamo qui... C'è anche Diego Perilli, uno dei nostri atleti del team. Ecco, oggi loro si trovano qui per... Abbiamo fatto un'esibizione praticamente per questo evento di beneficenza e abbiamo fatto vedere, diciamo, delle tecniche di combattimento del nostro stile per dare un, diciamo, un'infarinata al pubblico di quello che è il nostro scuola. Qualche anticipazione in programma che avete apprezzo? Allora, abbiamo un'altra esibizione la settimana prossima di Purtica per il suo Pagni di Oli e dopodiché avremo il 15 ottobre, abbiamo una gara, perché i nostri atleti saliranno sul ring per dimostrare il loro valore. Ricordiamo i vostri contatti quali sono su Instagram? A noi ci trovate su Instagram, cercateci, c'è la pagina nostra Centaurus Fight Company. Cercateci, mettete like alla nostra pagina. Ecco, mi raccomando, seguiteli e ricordiamo anche le pagine personali vostre, quali sono? Io sono Fabiano Di Gregorio, su Facebook, trovate così, e su Instagram, Luca Like The Rock. Luca Like The Rock, no. Ecco, memorizzate. Sono i suoi The Rock. Perfetto. E invece tu? Su Facebook Diego Perilli. Diego Perilli. Diego Perilli. Ecco, nel frattempo, come potete vedere, c'è molta agitazione, perché la partita sta vivendo dei bellissimi momenti, sono tutti per la solidarietà. Ricordiamo appunto che verrà donato un defibili di latore, per questo stato ed è importante. Certo, certo, perché soprattutto per lo sport è giusto, che la prima cosa deve esserci la sicurezza. I ragazzi devono praticare sport in sicurezza. Perfetto, questo è un bellissimo messaggio. Allora, noi salutiamo tutti quanti, contribuiti e venite nei loro pagini e seguite tutti gli eventi, va bene? Ciao! Sommatica! Sommatica! Ciao!